Ben ritrovati nella sede centrale di Dotolo Mobili qui al passo di Mirabella e con grande entusiasmo che oggi voglio presentarvi la nuova promo Sposi 2023 Acquistando oggi avrai il prezzo bloccato per tutto il 2023 Dopo aver bloccato il prezzo sceglierete voi quando volete la consegna e ricordate che tutti gli eventuali aumenti sono a carico nostro Affrettatevi! Arredamenti completi a partire da 4.990 Solo con Dotolo la qualità ha il giusto prezzo Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta Papà, ma abbiamo fatto bene i conti